...e 56 di 3 d'Italia, proveniente da Dari Centrale, è diretto a Foggia, delle ore 19 e 23 è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le stazioni. Allontanarsi, allontanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le stazioni, allontanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le stazioni. Allontanarsi, allontanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le stazioni, allontanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le stazioni. Sotto in due stazioni. una rotta verso la linea per l'altra, la poterà in tutte le spazienze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.